Dottor Gambino, le prime impressioni dopo questo nuovo incarico? Le prime impressioni sono molto felice di essere tornato in Puglia innanzitutto. A Taranto, una città con tanti problemi, ma sicuramente questo stimolante, ringrazio proprio il capo della polizia di questa possibilità che mi ha dato. Ovviamente l'esperienza che mi porto dall'ultima realtà, quella di Crotone, servirà sicuramente a darmi uno stimolo in più. E come ho detto prima, sono già diventato da questa mattina cittadino tarantino. È quello che penso. Che tipo di realtà si aspetta dal punto di vista lavorativo per il suo lavoro? La realtà è una realtà sana, una realtà con tanti colleghi, alcuni di loro li conosco anche perché hanno già lavorato con me. Quindi trovo una realtà che non conosco completamente, però in parte sono avvantaggiato, essendo tra virgolette salentino. Quindi la provincia di Lecce è confinante con quella di Taranto. Quindi molte delle realtà, anche criminali, sono da me conosciute. Sarà importante un lavoro di rete, ecco, sinergia con le altre istituzioni? Ma su questo è il mio mantra. Ve l'ho detto all'inizio, voi fate parte del sistema sicurezza, perché molto spesso quella che è la sicurezza reale, non è quella che è la sicurezza percepita o viceversa. Una strepitus sulla stampa può creare tanti danni. Se non c'è lo strepitus, al contrario, potrebbe non creare l'allarme su certe situazioni. Quindi voi fate parte sicuramente di questo sistema e io vi ringrazio anzi di essere venuti così in tanti oggi a sentire la mia presentazione, perché la mia non era altro che la presentazione, perché ancora devo immergermi come farò nelle realtà di questa questura. Il suo obiettivo è anche quello di parlare di legalità all'interno delle scuole, soprattutto. Sì, questo delle scuole sicuramente è un qualcosa che faremo. Faremo di intesa con la prefettura, ovviamente. Lo faremo anche con le specialità, perché noi abbiamo delle grandi professionalità all'interno delle specialità. Polizia postale, polizia stradale, sicuramente. e questo servirà appunto per i ragazzi, coloro che sono poi i dirigenti di domani. Un'ultima cosa, parlando di classifiche, Taranto è in basso dal punto di vista della vivibilità, però non è così per quanto riguarda il tema della sicurezza. Beh, noi dobbiamo sempre migliorare su quello che è il prodotto che produciamo noi, la sicurezza. Sarebbe l'ideale poi riuscire a pareggiare i conti tra sicurezza e quelli che sono gli altri indicatori delle varie classifiche.